Di nuovo in onda, come dicevo, c'è il collegato con noi, il sottosegretario Enzo Amendola. Allora, vorrei chiederle intanto subito, appunto stiamo parlando dell'India, abbiamo concluso così l'ultima parte della trasmissione, però volevo chiedere a lei se c'è un'iniziativa europea a fronte di questa enorme emergenza o comunque per aiutare, diciamo, non soltanto l'India, ma insomma andare a vaccinare anche altrove. Glielo chiedo perché ha assunto una tale dimensione questo problema con la questione dei blocchi dei voli in Italia, ma che naturalmente poi se non sono bloccati nel resto dell'Europa funziona poco. Potremmo rivedere il vecchio film che abbiamo già visto con il blocco poi criticato dei voli dalla Cina all'inizio della pandemia. Le chiedo appunto se c'è un'iniziativa e qual è anche la posizione dell'Italia. Il coordinamento tra i paesi europei è massimo, sia per quanto riguarda i voli, lo abbiamo fatto per la variante brasiliana, anche per quella indiana, quindi il coordinamento sulle chiusure dai paesi terzi è sempre massimo, ovviamente perché gli arrivi sono spesso collegati tra capitali e capitali. Per quanto riguarda la solidarietà che l'Europa fa con i vaccini, sì, siamo i più grandi donatori del COVAX, che è questa alleanza per dare vaccini a paesi in difficoltà. L'India è stata una scelta dall'inizio, saggia, dell'Unione Europea, anche perché non stiamo parlando di una pandemia che ha una lettura geopolitica dei rapporti tra i paesi. Quindi più noi riusciamo con la solidarietà a dare i vaccini ai paesi fragili, come abbiamo fatto dall'inizio, più riusciamo a coordinare anche la risposta. L'India è poi un paese decisivo, come sapete è anche uno dei maggiori produttori proprio di vaccini al mondo. Nella catena di produzione globale l'India ha un posto molto rilevante, quindi l'Europa con il COVAX continua a fare questa campagna che non è solo di solidarietà ma è proprio per aiutare i paesi più in difficoltà. È proprio notizia di questi minuti riportata dal quotidiano britannico Guardian che l'India ha aperto il vaccino per tutti gli adulti con una campagna, però una campagna veramente ardua perché devono immunizzare 900 milioni di persone, quindi insomma servirà penso a rabbrividire questi numeri. Lina Palmerini, non so se hai una domanda per Amendola su questo tema o dintorni e poi vorrei sentire anche Rasi su questo. No, volevo chiedere anche un po' la sua impressione, il suo commento. Abbiamo visto delle immagini di questo fine settimana, non soltanto quelle dei festeggiamenti dell'Inter ma un po' in tutte le città e parti d'Italia. Ecco, se sono immagini che vi fanno preoccupare, se vi fanno pensare che questa scommessa ragionata sia stata poco ragionata, volevo capire qual è la sua impressione e se teme una marcia indietro. Siamo stati a parlare di coprifuoco tutta la scorsa settimana, insomma, se era poi una discussione che ci stava alla luce di queste immagini. Ogni settimana c'è una discussione che sembra epocale, l'abbiamo vista sul coprifuoco, poi si rivela per quello che è. Noi dobbiamo avere una tabella di marcia in cui la priorità si dà ai vaccini, è una campagna di vaccinazione che deve aumentare, adesso è arrivato a degli obiettivi che ci eravamo dati ma deve crescere. Quella è la via maestra. Ovviamente come il governo fa un rischio ragionato, questo non significa una deresponsabilizzazione. Siamo tutti chiamati non solo alla solidarietà ma anche alla responsabilità negli atteggiamenti individuali. Quindi noi abbiamo come priorità quella della vaccinazione, perché è la strada maestra. Allo stesso tempo tutti siamo chiamati individualmente ad avere degli approcci non solo ragionati ma che siano anche responsabili. Mi scusi, però c'è anche una responsabilità della politica a fare i controlli, perché non può essere tutto demandato alla responsabilità individuale. Assolutamente. Abbiamo parlato anche nelle scorse settimane dell'azione o non dell'azione di chi si comporta male, questo non può farlo un cittadino in comune. C'è anche il tema di denunciare o non denunciare le feste dei vicini. Esatto, c'è forse una scarsa presenza del pubblico e dei controlli pubblici che poi spingono i cittadini a un po' far da sé. Non metto assolutamente in dubbio che c'è una responsabilità, ma quello che ho contestato nelle settimane scorse è questo dibattito tra aperturisti e coloro che vogliono negare tutto. Il rischio ragionato significa avere una gradualità nelle misure, intervenire come è successo anche in molte città quando ci sono assembramenti. Ieri era un caso su cui non ho tutte le notizie, ma su cui è evidente che c'è stato qualche problema, ma non sto demandando agli individui la dimensione dell'ordine pubblico. Dico che ognuno di noi, come il governo sta producendo quelli che sono i passaggi che ci eravamo impegnati a fare, ognuno di noi comunque ha il tema della responsabilità individuale, non è un passaggio di consegni assolutamente. Professor Rasi, vengo da lei prima di poi girare la stessa questione al sottosegretario Amendola, perché lei è stato membro dell'EMA, quindi conosce anche i meccanismi europei. Che ne pensa del contenzioso legale che alla fine l'Europa, la Commissione europea, ha aperto nei confronti di AstraZeneca? E in generale se la gestione così europea dei vaccini ha superato le maggiori criticità? Ma tornando all'inizio, la gestione dei vaccini, se ne è parlato tanto, dell'Europa sicuramente non è stata ottimale, ma è stato il male minore. Immagini se quella negoziazione la facevano 27 paesi in maniera separata e l'un contro l'altro armato. Oltretutto il portafoglio che aveva suggerito alcuni paesi era solo di puntare su AstraZeneca e quello locale, Sanofi, che poi è fallito. Quindi da un lato meno male che la negoziazione europea ci ha portato a questo. Un'altra nota è che la negoziazione europea era di per sé molto debole, perché mentre l'America aveva messo 10 miliardi già il 15 di aprile per favorire lo sviluppo, l'Europa non ha praticamente dato nessun contributo, ha pensato a tirare sul prezzo invece che a investire. Quindi questo diciamo è il vulnus iniziale. Poi a questo punto sicuramente uno dei vaccini su cui si è appuntato, AstraZeneca, su cui adesso siamo in causa, è stato particolarmente inadempiente, particolarmente deludente nella consegna dei vaccini. È vero che hanno avuto grossi problemi di produzione, hanno avuto una resa molto più bassa. Non credo che questo giustifichi da solo la cattiva gestione delle partite da consegnare in Italia. Credo che se hanno preso un'azione legale, evidentemente hanno gli elementi per farlo. Questo pensa. Sottosegretario Amendola, ci sono gli elementi, perché si era detto all'inizio che era poco, anche per come sono stati condotti gli accordi commerciali con queste case farmaceutiche, che in realtà clausole, contratti erano abbastanza difficilmente impugnabili. Invece evidentemente quello di AstraZeneca può essere impugnato con successo dall'Europa? Sicuramente tutti gli Stati hanno chiesto una reazione, perché nel primo e secondo trimestre la sovrastima di consegne da AstraZeneca ha messo in difficoltà molti paesi, molti paesi che avevano prenotato più AstraZeneca che altri vaccini. Non a caso si è dovuto fare un anticipo di Pfizer-BioNTech, una prima ridistribuzione di 10 milioni anticipata da altri trimestri, e quello che sta facendo la Commissione adesso col commissario Breton è spingere i nuovi luoghi di produzione in tutta Europa per aumentare le dosi. Quindi l'errore di sovrastima di AstraZeneca in molti paesi è stato molto complicato. Le reazioni che abbiamo avuto dall'Unione Europea sull'export, regole un po' più stringenti e sull'aumento di produzione, non dico fa essere ottimisti, ma ci mette in marcia per il secondo e terzo trimestre in una condizione migliore. È evidente però che questo è stato un problema, come diceva il professore, un errore che ha pesato sulla pianificazione. Ma appunto ha delle, immagino, confidi su delle chance di vittoria, questo volevo dire nel contenzioso. Ah guardi, noi c'è una, la direttrice della direzione sanità è un'italiana molto brava, che è stata anche accusata di cose, di polemiche abbastanza astruse. Invece è una delle professionisti migliori che abbiamo nella direzione, appunto che guida la direzione sanità. Lei è stata, insieme agli stati membri artefici di tutti i negoziati, io credo che abbiano le carte in regola per garantire quello che era un accordo firmato e sottoscritto mesi fa. Lina, tu citavi all'inizio della trasmissione il PNRR, che è stato il grande tema, anche il tema con cui si è chiusa la scorsa settimana, è stato consegnato nei tempi, alla fine con grande sforzo, ma nei tempi. Volevo tornare su questo, se hai una domanda naturalmente per Amendola, ma anche se tu, oggi c'è un'intervista, vedo anche al commissario agli affari economici dell'Europa, Paolo Gentiloni, versione ottimista sui tempi. Sì, versione ottimista, però mi ricordo anche un'intervista precedente del commissario Gentiloni, in cui chiedeva delle procedure straordinarie per l'attuazione del piano. E vorrei chiedere proprio questo al sottosegretario Amendola, cioè se ci dobbiamo attendere, e dentro quanto tempo, il varo di questo disegno di legge con delle procedure straordinarie, perché il grande punto di domanda è se riusciremo poi effettivamente a utilizzare tutti i soldi e soprattutto a spenderli come si deve. Queste procedure ci saranno, ci sarà nello stesso testo di legge anche una definizione dei poteri sostitutivi, che è un'altra cosa di cui si era parlata già ai tempi del governo Conte II, cioè chi è in ritardo, poi il governo può sostituire, può esercitare appunto dei poteri sostitutivi. Se ci sarà anche questo pezzo, diciamo, di disciplina di normativa. Assolutamente sì, risposta secca, perché non abbiamo record storici di assorbimento delle risorse europee e sappiamo benissimo che questa volta non dipende solo il successo della ripresa italiana, ma anche il successo di uno strumento di politica fiscale europea che a noi interessa. L'Unione Europea emetterà 800 miliardi di bond nei prossimi anni, la gran parte viene in Italia e noi quello che dobbiamo fare adesso, dopo aver presentato il piano, è costruire un governo del piano, una governance con delle norme che diano corsie preferenziali ai 248 miliardi, cioè ai 205 del next generation o più quella del fondo complementare. Si farà nei prossimi settimane perché adesso la Commissione ha due mesi per istruire il piano, poi c'è un altro mese dell'Ecofi, quindi in questo lasso di tempo che ci guida proprio all'inizio del piano il governo dovrà fare norme particolari speciali per utilizzare questi soldi con corsie preferenziali. non è una sfida che possiamo, dobbiamo utilizzare tutte le armi a disposizione, quella che serve alla pubblica amministrazione è proprio una struttura, procedure, esecuzione che diano una transizione burocratica al nostro Paese, non solo quella digitale, quella green, ma anche rinvigorire la pubblica amministrazione con delle procedure che nel prossimo futuro diventeranno, io spero, anche ordinarie. Ecco, l'esperienza del next generation servirà a cambiare la pubblica amministrazione, secondo me, sia a livello centrale sia a livello delle pubbliche amministrazioni locali. Velocissimamente, ma cosa è che non ha funzionato sulla precedente legge sulle semplificazioni? Perché non è un debutto questo delle semplificazioni. Già lo scorso anno, più o meno in questo periodo, il governo di cui lei faceva parte aveva fatto una legge sulle semplificazioni. Era stata fatta male? No, era un primo passaggio. Adesso stiamo parlando di non semplificazioni solo nella pubblica amministrazione, stiamo parlando di come queste risorse hanno delle corsie preferenziali, quindi stiamo costruendo qualcosa di straordinario nella gestione delle risorse perché avremo bisogno di rispettare l'impegnativa per tutti i progetti al 2022 e la spesa finale al 2026. Quindi ci sono lassi di tempo che sono predefiniti, non si può scherzare su questo. Chiaro. Senta, avevamo parlato a proposito del PNRR. Nella prima parte della trasmissione era tutta dedicata alla questione dei dossieraggi della magistratura che stanno così dilaniando la magistratura in questo momento e poi dirò che è arrivato adesso proprio un comunicato della corrente di cui fa parte Pier Camillo Davigo, lo leggiamo dopo però, ma le volevo chiedere se è proprio così la riforma della giustizia invece è di quelle messe in coda e perché rispetto a tutte le riforme che sono, lo sappiamo, una condizione tra l'altro posta dall'Europa per l'elargizione di questi, la distribuzione delle risorse. No, no, la riforma e la giustizia è una delle raccomandazioni della Commissione, anzi insieme a pubblica amministrazione... Perché nel calendario del governo è in coda? No, non è, c'è un calendario prefissato di obiettivi, i primi obiettivi sono la riduzione dei tempi del processo civile del 40% e quello penale, ma dentro un composito progetto di riforma. Ovvio che in Italia la giustizia non si riforma per decreto legge, ma quindi ci saranno tutti i procedimenti parlamentari conseguenti, ma non è assolutamente... È una delle due priorità, quelle sottolineate, insieme poi c'è concorrenza. Sì, ma farete prima ci sarà la pubblica amministrazione, poi ci sarà il fisco per dire... No, poi ci sarà la concorrenza, il fisco è un binario diverso, poi la concorrenza ultima la giustizia? No, non c'è quest'ordine. Non c'è una classifica, spartiranno tutti insieme e dovranno essere realizzati. Avevamo capito così. No. No. Allora, leggo, lo dicevo, il comunicato dell'autonomia e indipendenza, la corrente di Pier Camillo Davigo e Sebastiano Ardita, oggi poi ferricorti, i due, che dice quali siano oggi le ragioni di un atto tanto illegale, dossieraggio, quanto vile, chi si è prestato a compierlo, siamo certi, sarà chiarito. Stante la particolare delicatezza del momento, chiediamo a tutte le istituzioni interessate di tenere altissimo il livello di attenzione e di attivarsi affinché sulla vicenda venga fatta piena luce nel più breve tempo possibile e vengano perseguiti gli autori dell'ignobile sciacallaggio. L'ho letto perché è significativo, non tanto si chiede chiarezza e così, ma che venga proprio da questa parte, no, Lina Palmerini? Allora, ancora abbiamo pochissimi minuti, però volevo fare una domanda a Mendola, anche sull'altro caso del giorno di cui noi ci occuperemo più approfonditamente domani, ovvero la vicenda Fedez-Rai, sottosegretario, perché insomma qui abbiamo ripreso il titolo del Corriere della Sera, agita i partiti, la Rai sotto accusa, lei che idea si è fatta? Che lei pensa che sia stato un tentativo di censura esecrabile? Che Fedez abbia detto quello che la politica non ha detto? Che la Rai, come hanno detto il segretario del PD Enrico Letta, lo stesso Conte, eccetera, debba essere riformata e cambiata in vertici? Che la Rai bisogna riformarla e riformare la governance oramai credo che sia comune a tutti, poi nell'esecuzione pochi l'hanno messo in pratica. No, quello che dico è che la politica non ha fatto il suo mestiere, questo lo contesto, perché Fedez sta parlando di una proposta di legge di un parlamentare del PD che è bloccato al Senato dopo essere approvato alla Camera, quindi non si può accusare i partiti di non fare una battaglia, è Fedez che fa una battaglia giustamente su una proposta di legge. Per quanto riguarda quello che è successo in Rai, io credo che i vertici debbano chiarire, c'è un'opinione pubblica che ovviamente guarda alla Rai e al servizio pubblico con rispetto e vuole avere rispetto di tutte quelle che sono le vicende che Fedez ha fatto. Posso farle vedere un tweet di Carlo Calenda, se la regia lo può mandare, che è un po' polemico, se riusciamo a mandarlo, ma insomma... Sì, ma intanto se posso dire velocemente come secondo... Scusa un secondo Lina, soltanto se poi la domanda ha ragione Giuseppe Conte, questa Rai politicizzata, mannaggia come hanno fatto le nomine, saranno stati dei vulcaniani di passaggio in Italia, cioè le dichiarazioni di Conte che era presidente del Consiglio di due governi e che insomma i vertici li ha nominati lui e anche poi immagino insomma anche tante nomine sono state, tante nomine interne sono condizionate dalle forze di maggioranza e dai governi a Mendola. Sì, no, questo è l'aspetto più... Carlo Calenda lo fa con una battuta, però se vogliamo in questa stagione le riforme, anche riformare finalmente il servizio pubblico, dandovi una missione anche cercando di elevare la qualità di un lavoro fondamentale per il Paese, mi auguro che al di là delle polemiche del caso specifico si riesca a fare, però nessuno... Sì, però il tema era se Conte aveva diciamo, forse non aveva un po' come dire, esagerato nel prendere le distanze da qualcosa che insomma che lo vede anche responsabile, no? Le ha scelti lui o no? Questa era la battuta di Calenda. Sì, no, infatti è una battuta che ci sta, ecco come dicevo. Sì, sì, no, ci sta anche per i partiti perché poi alla fine Conte è il terminale di quello che decidono i partiti, incluso il partito del sottosegretario Amendola. No, l'unica cosa a concludere, insomma un peccato per voi politici onorevole Amendola che sia Fedez a dovervi incalzare su cose su cui dovreste prendere l'iniziativa autonomamente. Scusi, Fedez sta incalzando su una proposta di legge di un deputato del PD che dobbiamo fare di più. Non sto parlando del DDL Zanno, sto parlando della riforma della RAI perché diciamo la polemica non è tanto sul fatto, sulla proposta di legge contro l'omofobia, la polemica è sulla censura della RAI e quindi sull'esigenza, come lei stesso ha detto, di riformare la RAI. Cioè, secondo me è un po' questo il tema, cioè di una forse debolezza, ha messo un po' il dito nella piaga, di una debolezza appunto della politica che non è riuscita a riformare la RAI, su cui tutti i cittadini italiani sono contribuenti. Quindi, insomma, c'è una responsabilità aggiuntiva. Sì, no, ma io non credo che fosse questo l'obiettivo di Fedez. L'obiettivo di Fedez è ovviamente una battaglia sul DDL Zanno. Quello che è all'ordine del giorno, come tutte le riforme che bisogna fare in questo Paese è modernizzare anche le strutture e la comunicazione, soprattutto quelle pubbliche che noi paghiamo con il canone, che non sono all'altezza di quella che... Però questo assetto è figlio, poi ne parleremo appunto, abbiamo proprio esaurito il tempo, però va detto anche che questo assetto è figlio di una riforma che è già stata fatta nel 2015, è stata fatta anche a trazione Partito Democratico. Le chiedo se allora significa che non ha funzionato quella riforma, se già si riparla di ririformare la RAI. No, ma non è solo un tema di riforma, è anche un tema di valutare il lavoro che si è fatto, di qual è la missione, di quali sono i piani editoriali. Cioè è un tema su cui il Parlamento esercita la sua vigilanza, su cui anche i cittadini, scegliendo o non scegliendo il prodotto, danno un consenso. Quindi il tema della governance della RAI, credo che ci siano un sacco di proposte di legge in Parlamento, se è tempo di farlo, io che non sono esperto del ramo, mi affido a coloro che in Parlamento ne sanno più di me. E speriamo che non facciano la fine del DDL ZAN, cioè che non si discuta. Noi ne discuteremo sicuramente domani, grazie Enzo Amendola, grazie Alina Palmerini, grazie a Professor Guido Rasi, e ci vediamo domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.